Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 7 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Giovedì intensissimo, con la luna nel segno. La luna odierna nel vostro segno, sollecitata dal sole, Giove, Mercurio e Urano, vi parla di emozioni, siete più sensibili all'argomento erotico e basta menzionare questioni di cuore per scatenare le reazioni più svariate e imprevedibili, follia amorosa, tenerezza, fantasia o perché no amore. Tutto dipende dalla situazione contingente, se il partner c'è il sole splende sulla coppia, anche se fuori piove. Incontri intriganti anche per chi l'amore lo sta aspettando. Molto tempo dedicato ai vostri figli che trattate in modo molto amichevole, quasi foste compagni dello stesso gruppo scout o del corso di alpinismo o teatro. Bello, ma sappiate che da voi si aspettano appoggio, regole e un pizzico di autorevolezza. Piccole ma buone notizie in tutti i campi, anche in quello sentimentale. Annuncia l'incontro con un uomo giovane, chiaro di capelli, anticonformista, serio, maturo e con la testa sulle spalle. Piccole gioie, un ragazzo innamorato, l'incontro con una persona che ci terrà lontano dalle delusioni e dalle fatiche della vita. Potreste aver bisogno di tutta la vostra calma per risolvere oggi una situazione intricata e complessa, riuscirete comunque a fare in modo che il problema che vi affligge si possa risolvere. C'è una persona che vi sta a cuore che oggi vi pensa davvero tanto, provate a passare dove lavora o dove abita o dove frequenta spesso e noterete qualcosa di strano. Ricomponete i rapporti con gli altri deteriorati per incomprensioni o malintesi, ne trarrete giovamento a breve. Se state pensando di separarvi fate bene i vostri calcoli e, potendo, rinviate la decisione e fate in modo che siate certi di averle tenatete tutte, ma proprio tutte. Se vi sentite affrante e sfiduciate, coraggio, entro la fine della giornata una ventata di ottimismo vi pervaderà e potrete intravedere alcune possibili soluzioni a dei vostri problemi concreti. Eccellente giornata per abbellire la casa. Tutto bene in famiglia. La luna oggi vi rende particolarmente vispi e allegri, favoriti i rapporti con gli amici. Solo in serata un piccolo imprevisto vi inquieterà un poco. Umore in netto miglioramento a partire già dalla mattina, solo i nati di lunene dovranno pazientare ancora perché a causa di contrattempi si potrebbero determinare situazioni ciriche e imbarazzanti. Alcune ombre si addenseranno nella giornata odierna sui nati di venerdì. Per gli altri non ci saranno particolari novità soprattutto in fatto di amicizia e rapporti con il partner. La luna, sempre in buon aspetto di congiunzione, vi vuole comunicativi e in piena sintonia con l'ambiente questa giornata di inizio marzo. Aumenta la vostra sensibilità e vi fa percettivi su tutto quel che accade attorno. Vi preparate così a una fase in cui mettete in campo la vostra brillante socialità conoscendo persone nuove e coltivando le amicizie che vi accompagnano da sempre. Anche in famiglia approfittate di un clima di serenità per organizzarvi al meglio il prossimo fine settimana. Luna di metà settimana, gentile e comprensiva nel vostro segno, buona amica di urano promettente sul fronte del cuore e del trio sole mercurio nettuno che si occupa invece del movimento, studi, affari, viaggi. Amore ed eros. La bianca signora nel vostro segno, supportata da aiutanti di grande levatura, vi aiuta a portare pazienza in situazioni difficili, comprendete le esigenze delle persone care e fate il possibile per venire loro incontro. Figli tecnologici, forse un po' troppo, vero che il mondo va verso il futuro, ma volete mettere l'incanto di una fiaba o la dolcezza di una ninna nanna? Nel vostro segno dimora una forza celeste intensissima, la luna. Puntare in alto in amore non vi è difficile e facile anche credere di potercela fare. Tuttavia, quest'oggi è necessaria una pausa di cautela, di assimilazione e riflessione di quanto avete finora raggiunto, specie se siete nati nella terza decade. Se state mirando dritto al cuore di qualcuno da tempo, è arrivato il momento di programmare le mosse in maniera lucida e mirata sapendo, però attendere i tempi più congeniali e opportuni. Lavoro e denaro. Diplomazia e creatività vi sostengono anche sul lavoro, a un esame o a un colloquio di selezione mettete in luce il vostro lato migliore, meravigliando l'interlocutore con la prontezza, la logica e l'eleganza con cui vi esprimete. Armonia coi colleghi, elargite buoni consigli, ma non puntate ad essere il numero uno, perciò mettete da parte l'orgoglio e all'occorrenza chiedete anche voi. Vi arriva un'importante e anche attesa committenza professionale. Nettuno positivo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 16 al 20 del mese di gennaio, vi consegna la possibilità di emergere in campo lavorativo, mostrando le vostre specifiche eccellenze, il talento che avete a disposizione. Benessere. Sistema immunitario ai massimi livelli, state benone e avete energia da vendere. Meno male, così potete aiutare persone che invece non hanno la vostra fortuna. Denaro. Luna e Giove molto sorridenti per voi vi consentono di muovere i vostri risparmi in direzione conveniente e senz'altro fruttuosa. Specie se siete nati nella seconda decade. Per lei, nonostante le difficoltà in cui vi dibattete, sul lavoro continuate ad andare fortissimo. Orgogliose di voi stesse, non tutte avrebbero il vostro autodominio. Per lui, ha un amico confidate faccende molto private, puntando sulla sua discrezione, tranquilli, anche voi conoscete tutto di lui e se spiffera. Sapreste dove colpire. Colore delle emozioni, rosa pallido. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 8, finanze, 9, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video.